Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telecosta Smeralda, allora c'è in primo piano una notizia che farà felice tanti sardi perché finalmente la spiaggia di Porto Tramazzo ritorna nella piena disponibilità della regione, era stata concessa appunto all'esercito, è succeduto un processo per mettere di nuovo nella disponibilità dei sardi la parte che era inerente al poligono di Capofrasca. Vediamo, grazie. Il percorso era iniziato più di cinque anni fa, ma solo nei giorni scorsi si è concluso, ridando ai sardi la piena disponibilità di un tratto di costa tra i più suggestivi dell'isola Porto Tramazzo, dove una lingua di spiaggia color cipria incornicia un mare colore smeraldo, alle spalle il verde della macchia mediterranea. Apparteneva all'area del poligono di Capoteulada, ma grazie al decreto firmato il 12 dicembre dal presidente del Consiglio dei Ministri, l'area della spiaggia di Porto Tramazzo e le sue pertinenze alla spiaggia di Senna e Sarca, nell'area del poligono di Capofrasca e l'ulteriore porzione di scogliera attigua alla spiaggia di Senna e Sarca non fanno più parte delle servitù militari. Niente più di veti dunque, libera fruizione e libera balneazione e potrà anche essere oggetto di una concessione demaniale per strutture al servizio dei bagnanti sardi e di turisti di passaggio. Il territorio di Teuladea si arricchisce dunque di un nuovo punto di attrazione che permetterà di incrementarne l'immagine come luogo ideale per le vacanze e non solo come luogo per esercitazioni militari. Si tratta, detto il presidente della regione Cristian Solinas, della conclusione di un lungo iter per la riconquista e la liberazione dalle servitù militari di luoghi simbolo delle rivendicazioni sardiste. Ancora una volta il lavoro e il pragmatismo hanno dato i loro frutti. Non è un caso che la via del dialogo, conclude Solinas, sia sempre la più produttiva, anche per affermare diritti sacrosanti dei sardi e tutelare gli interessi della Sardegna. La storia di questo tratto di costa, come di altre servitù militari, è presto detta. Al termine della seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione del piano Marshall, l'Italia si impegnò a dare agli americani una sede di addestramento e basi militari nel Mediterraneo. Nacquero così, negli anni 50, con l'esproprio dei terreni in alcune regioni italiane a statuto speciale, le prime servitù militari. La Sardegna ha pagato più di tutti. È una delle regioni italiane più militarizzate dove si addestrano gli eserciti di tutto il mondo. Infatti nell'isola migliaia sono gli etari di territori interessati a servitù militari, a cui si aggiunge un vasto tratto di mare dove è vietata la navigazione, così come la pesca, durante tutto il periodo delle esercitazioni militari. Sardegna e Umbria sono legate da un patto per il turismo nel nome e all'insegna dell'enogastronomia. Vediamo di cosa si tratta. Quale modello migliore di promuovere una città, il suo centro storico, è quelle viuzze, a volte strette, altre più ampie. Intorno c'è il traffico. Trafico di Natale, claxone, è la ricerca spasmodica di un parcheggio utile. Cagliari e la Sardegna. È un progetto aderente alla promozione delle bellezze e unicità. Ecco, allora, in Italy, festival del cibo e del turismo. Come vede quest'anno il gemellaggio tra Sardegna e Umbria, nato dalla sinergia e dalla stretta collaborazione del consorzio Cagliari Centro Storico con l'Università per gli Stranieri di Perugia, il corso di laurea Made in Italy, cibo e ospitalità. Obiettivo? Finalità? Mettere al centro, in vetrina, fa scoprire e gustare i prodotti identitari delle due regioni e l'alta gastronomia italiana e sarda. Ci saranno 12 ristoranti che dovranno proporre proprio questo gemellaggio gastronomico tra Umbria e Sardegna. Si ha un menù per la città, ma lo stesso menù poi verrà esaminato da grandissimi chef internazionali, come Enrico De Flinger, che è stato lo chef della Casa Reale d'Inghilterra. La prima tappa del gemellaggio si è svolta a Perugia, lo scorso aprile, dove sono stati portati e valorizzati i prodotti sardi. Pecorino, zafferano, olio, carciofo spinoso di Villassore Carignano di Carasetta, promuovendo i rispettivi centri storici e centri naturali e poi i GAL coinvolti nell'evento. Cagliari al centro, quindi. Tutto nasce dai centri commerciali naturali, che sono degli aggregatori di imprese che creano azioni di promozione e di valorizzazione. Sono tantissime persone che si mettono a disposizione per creare valori, in questo caso anche con più regioni, con l'Umbria e delle collaborazioni condividendo proprio tutti i valori, dalla cultura al turismo al cibo. Mettendo insieme tutto questo e condividendolo con le intelligenze che si mettono a disposizione dell'evento, si può creare un evento di questo valore. A tavola insieme, Sardegna e Umbria, in un progetto di ampio respiro, turistico e di promozione delle tradizioni enogastronomiche e non solo, e di quei vicoli che disegnano il cuore di una città. Sardegna e Umbria, ma anche Sardegna e Valle d'Aosta, unite nel nome della storia e dei Menhir. Poco meno di mille chilometri separano la Sardegna dalla Valle d'Aosta. Luna all'estremità dell'altra, regioni che più diverse non si potrebbe, eppure la storia le unisce, le colleghe le avvicina. Un percorso è ritroso nel tempo, dall'epoca neolitica a quella neolitica fino all'età del bronzo, che passa attraverso il megalitismo rappresentato da statue risalenti a 5.000 anni fa. È un momento importante di sintesi di un lavoro anche lungo, di riconoscimento di specificità, ma anche di similitudini e affinità. Ed è questo filo rosso dell'archeologia preistorica a rinforzare i rapporti saldo-valdostani che poggiano su una solida base di pietra, quella con la quale sono stati scolpiti i Menhir, oggi conservati nel Museo della Statuaria Preistorica di Laconi e quelli ritrovati nel sito di San Marten de Corleán, scoperto dall'archeologo Franco Mezzena che per la tipologia dei resti rinvenuti, la ratura sacra, gli incisivi umani ritrovati sulla piattaforma, i crani animali alla base dei pali ha ipotizzato suggestive analogie con antichissimi riti di fondazione descritti nel mito di Giasone e degli argonauti. Qui, nell'area megalitica San Marten de Corleán ad Aosta, abbiamo suggellato questo accordo, un accordo che deve portare alla piena valorizzazione del fenomeno della statuaria preistorica non soltanto in Italia, non solo nel Mediterraneo, ma nell'Europa continentale. E proprio a proposito di Europa vorrei riprendere un concetto caro a Franco Mezzena, l'archeologo scopritore dell'area megalitica di San Marten de Corleán di Aosta, il quale dice proprio sulla storia antica che raccontano le grandi stelle, le grandi statue preistoriche, dobbiamo fondare una nuova storia dell'Europa moderna. Nel nome delle stelle antropomorfe così si dà seguito ad una collaborazione già avviata anni fa tra il Museo area megalitica del capoluogo valdostano e il laconese Minir Museum, un'intesa sancita con un protocollo siglato di recente ad Aosta, alla presenza delle autorità valdostane sarde per realizzare progetti comuni di ricerca scientifica e di valorizzazione. Una convenzione che abbiamo sottoscritto tra il comune di Laconi, quindi la Sardegna e la valle d'Aosta, in particolare con l'area megalitica della città di Aosta, un accordo di collaborazione tra la Sardegna e la valle d'Aosta che credo porterà dei risultati importanti sia in termini umani sia in termini credo culturali, storico-archeologici. Valle d'Aosta e Sardegna sono unite però anche dalla storia di due straordinari studiosi, Enrico Azzeni e Franco Mezzena, lo scopritore del sito, oggi 86enne e protagonista del documentario L'archeologia raccontata con il sorriso di Nicola Castangia e Andrea Fenu. Dopo 40 anni sono tornato nell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corleon ad Aosta, uno dei più grandi santuari preistorici d'Europa. Sono tornato con i ricordi di allora, quando da studente ho avuto la fortuna di partecipare a uno scavo archeologico unico per dimensioni e prospettive e di conoscere Franco Mezzena, il suo scopritore, un gigante dell'archeologia mediterranea e continentale. Si è subito capito, diciamo quasi a livello fulminante, che c'era qualcosa di importante. Siamo ai primi di giugno del 1969. In pratica quando anche in Sardegna l'amico Enrico Azzeni stava scoprendo le prime statue nei dintorni proprio di Laconi. La rassegna Evenman Megalitique, curata dalla struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, ha accolto i visitatori 1500, solo nei fine settimana dell'evento, interessati al nuovo allestimento dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corleon, riaperta proprio a novembre dopo importanti lavori di ampliamento e arricchimento del percorso espositivo. L'area megalitica di Aosta è un sito archeologico di grande importanza e il parco archeologico e il museo di Saint-Martin-de-Corleon è stato inaugurato nel 2016, poi l'abbiamo chiuso per periodi alternati invece ad apertura al pubblico dal 2019 fino alla settimana scorsa quando finalmente siamo riusciti a riaprirlo. Il coro polifonico laconese, diretto da Lorenzo Zonca, un ensemble maschile che propone brani sacri e tradizionali anche in lingua sarda, ha diriziato il pubblico che nei prossimi mesi potrà anche apprezzare un'esposizione dei megaliti sardi che saranno portati ad Aosta. Adesso potremo collaborare insieme sia nella parte della ricerca, sia nella parte della conoscenza e della trasmissione di tutto quello che ci caratterizza a tutti quelli che verranno in seguito a visitare i nostri musei. Io credo fortemente che questo non è solo un accordo scientifico, ma un accordo innanzitutto istituzionale, ma anche culturale. Perché la gente deve capire che oggi la cultura è tutto, soprattutto nei piccoli centri come il nostro della Sardegna. La cultura oggi è l'unica arma che ci consente di insistere nei nostri territori. Adesso invece godiamoci insieme il calendario dell'esercito. Vediamo. Col nuovo anno che bussa ormai alle porte l'esercito italiano, come da tradizione propone lo storico calendario, un documento che vuole ricordare a 80 anni di distanza i fatti bellici riferiti a uno dei periodi più drammatici del nostro paese, quello della partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Ci ritroviamo come ormai tradizione da molti anni, credo che siamo arrivati ormai alla 27esima edizione di questo calendario esercito. Come si intuisce dal titolo, anche quest'anno parliamo di 8 settembre. L'anno scorso abbiamo parlato dei fatti che avvennero a cavallo dell'8 settembre. Quest'anno invece vogliamo dare risalto ai protagonisti, agli uomini, a quei soldati che quei fatti hanno vissuto, che in quegli episodi hanno combattuto. Vogliamo far vedere che l'impegno di quei soldati era privo di qualsiasi ideologia di natura politica, ma che la loro volontà era soltanto quella di adempiere ai doveri del loro giuramento di fedeltà alla patria, di fedeltà alle istituzioni che quella patria in quel momento rappresentavano e hanno combattuto prima e dopo, sempre e soltanto con questo intento. Attraverso la rievocazione di quei tragici eventi si è voluto rendere omaggio agli uomini che a cui fatti parteciparono con assoluta consapevolezza di servire la patria sia prima sia dopo l'8 settembre del 1943, onorando il giuramento prestato. Quello che vogliamo far vedere sono i valori che contraddistinguono l'esercito italiano da ormai 150 anni che sono quelli appunto di fedeltà al giuramento prestato e di fedeltà alla patria e alle istituzioni. Ecco, l'esercito italiano è sempre più vicino ai cittadini? Sempre più vicino ai cittadini, a tutti quanti, noi siamo dei servitori dei nostri cittadini, dei nostri concittadini, peraltro la nostra attenzione è sempre rivolta a quelle categorie che sono più deboli, che hanno bisogno di più aiuto e di più supporto e non lo facciamo mai mancare. L'abbiamo dimostrato in molte circostanze, non voglio ricordare il periodo della pandemia perché speriamo di essercelo dimenticato, però questo è l'ultimo che mi viene in mente, ma quotidianamente siamo impegnati sulle strade, con le operazioni di ordine pubblico che si svolgono sul territorio nazionale, siamo impegnati all'estero e dappertutto noi ci facciamo portatori dei valori che contraddistinguono la nostra italianità, che sono quelli di libertà, di pace e di democrazia. Un'intuizione che apre una finestra su sociale, infatti il ricavato della vendita del datario, sarà dovuta a favore dell'Opera Nazionale di Assistenza. Attualmente circa 500 orfani di ufficiali, sotto ufficiali, graduati, nonché di militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussili annuali per la formazione scolastica e particolari necessità di carattere economico familiare. L'esercito e i giovani, i giovani sono una risorsa straordinaria, abbiamo una gioventù, uomini e donne giovanissimi che decidono di tramprendere questa vita che non è facile, difficile, contraddistinta da uno slancio di generosità incredibile, perché mettiamo la nostra vita al servizio e a disposizione del nostro paese, di tutti i cittadini e lo facciamo sempre con l'unico intento di servire con fedeltà le nostre istituzioni. È tutto, vi ringrazio per aver seguito anche oggi la nostra informazione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.